E' estremamente importante scoprire il tumore in una fase precoce. La grandezza del tumore infatti è l'elemento fondamentale per ottenere una buona cura e la guarigione della malattia. Più il tumore è piccolo, infatti, minori sono le caratteristiche biologiche di aggressività. Quindi questo è l'obiettivo della diagnosi e sulla base di un tumore di piccole dimensioni oggi è possibile fare un trattamento chirurgico molto conservativo. La chirurgia conservativa viene applicata oggi nelle strutture che operano pazienti con tumore al seno nel 70% dei casi almeno. E' un intervento che consiste nell'asportazione del tessuto tumorale con del tessuto sano intorno e associata ad una radioterapia che in molti casi può essere effettuata già durante l'intervento consente di controllare l'evoluzione locale della malattia. Un importante sviluppo, come è noto, è dato dall'esame del linfonodo stentinella che consente oggi di selezionare in maniera molto precisa e accurata i casi che richiedono l'asportazione dei linfonodi escellari da quelle per i quali invece si può evitare. Quindi il trattamento chirurgico oggi, dal punto di vista, è un trattamento combinato che vede il concorso di vari specialisti, il chirurgo, il radioterapista, il medico nucleare. Questo è importante per avere una caratterizzazione anche biologica la più accurata possibile. Il tutto avviene anche con una particolare attenzione agli aspetti estetici perché una buona e efficace cura del tumore al seno si deve oggi accompagnare anche con una cura del risultato estetico che si trasferisce poi in una migliore qualità di vita delle pazienti. Anche i casi, circa il 30%, che oggi devono necessariamente essere sottoposti a un intervento di mastectomia, questo intervento oggi è meno mutilante rispetto al passato perché in quasi tutti i casi è possibile effettuare una ricostruzione del seno già durante l'intervento, con una protesi definitiva o con un espansore che è una protesi a tutti gli effetti che consente di creare le condizioni ideali per una ricostruzione definitiva che viene effettuata a distanza di alcuni mesi. In questo caso poi il chirurgo plastico, che è quello che interverrà nella fase successiva, sarà anche in grado di definire i rapporti fra la mammella operata e quella sana e quindi decidere un eventuale rimodellamento così da dare alla paziente un risultato funzionale ed estetico ottimale.